eccoci qua di nuovo al bottegone mesi di settembre nuova stagione Silvia tante tante scarpe nuovo reparto perché qui si sta allargando il reparto da bambino non è una battuta è vero un reparto da bambino rinnovato e ingrandito perché non c'entravano in proprie parole le scarpe che avevamo adesso ce ne sono ancora di più ancora più scelta qui siamo nel numero 28 sono un esempio per farvi vedere tutto ciò che abbiamo già al bottegone della calzatura per la nuova stagione il numero 28 è un numero centrale poi chiaramente abbiamo numeri più piccoli partiamo dal 16 18 fino a numeri più grandi come 40 41 guardate che meraviglia poi si parla appunto di geox scalpe resistenti traspiranti queste qui davvero scalpe per tutta la stagione invernale guardate tantissimi modelli io vedo Silvia tanti tanti anche con lo sconto di risparmio non sono una vita ma anche sconti è una colpa me la so già presa è colpa degli sconti tantissimi modelli poi ci sono altri modelli nei numeri più piccoli che chiaramente non troverete nei numeri più grandi che si addicano meglio a numeri più piccoli e viceversa nei numeri più grandi abbiamo dei modelli adatti più ai ragazzi ai ragazzini e alla ragazzina ma le tennis ma guarda soltanto di adidas solo di adidas guarda che lavoro un assortimento sterminato di calzature sportive come adidas quindi sono le più vendute perché sono le più pratiche costano un prezzo veramente basso abbiamo con i lacci ma soprattutto con lo strappo migliaia di colori guardate da maschio da femmina ma che prezzi bassi ha fatto prezzi super bassi super convenienti e la convenienza la trovate sull'assortimento non è che abbiamo solo tre paio di scarpe e ci trovate la convenienza sarebbe troppo facile qui trovate un assortimento eccezionale sterminato guardate bene questi numeri questi modelli trovate fino al numero 40 a prezzi veramente convenienti a prezzi da bambino poi se volete ci sono anche da uomo e da donna che costano in proporzione un pochino un pochino di più abbiamo moltissimi modelli guardate bellissime poi lo sapete con lo strappo senza strappo più colacci la linea performance la scatola nera la linea origine con la scatola azzurra blu con le tre strisce guardate quante ne abbiamo super star gazelle los angeles trainer eccetera e le nike o quante ne ha fatta anche le adidas nella linea nuova neo una linea più urban guardate poi le nike io rimango senza parole bellissime io dico che il lavoro che il lavoro c'è da fare qui a mamma mia le nike venite in settembre perché sono aperti anche la domenica pomeriggio dalle 16 alle 20 troverete dei prezzi bassi e delle promozioni da bambino al mese dei bambini quindi venite approfittate di queste aperture domenicali anche quelle di settembre perché il 15 purtroppo per i bambini inizia la scuola quindi e voi mamma e voi genitori troverete il risparmio l'assortimento qui al bottegone tantissime scarpe al bambino di quelle giuste che non costano dei prezzi no non serve questa cosa qui ovviamente nel momento del genere e anche il gioco del bottegone della calzatura fuori nel giardino del bottegone ancora nike guardate quante ne abbiamo ma forze la classe kbv la la command poi tutte le scarpe dei personaggi della disney come le cars eccetera un po scusami a me mi cade anche gli occhi su questi stivali stupendi della primigi si parla di pelle sul letto in pelle grandi marche piede caldo mai bagnato perché bisogna pensare anche a questa cosa qui pensa la federica pensa la bimba io la prima cosa che pensa la praticità guarda che belle praticità perché sono scarpe pratiche si mettono bene poi io vedo anche delle calzature come l'asso non entra mai l'acqua vedete queste calzature qui si stivali asso costano pochissimo le trovate in assortimento eccezionale al bottegone tutti i modelli con offerta risparmio del 30 per cento pensate bene delle 30 per cento in questo caso in altre marche ci sono ci sono altre altre offerte no che siccome fai prezzi anche bassi oltre al farli bassi fa anche il l'offerta abbiamo modelli più giusti eccolo qua questo per esempio tipo polacone della primigi guarda com'è questo qui della primigi bellissimo prezzi giusti mi raccomando mettetelo in testa che abbiamo l'assortimento i prezzi bassi perché giusti sono preparati siamo anche un negozio tra l'altro assistito cosa vuol dire che non siamo un self service lo possiamo essere se non volete le commesse potete servirvi anche da voi ma siamo negozio assistito dove ci sono le commesse apposta per far vedere e scegliere in questo in questa maria di merce non c'è più tempo non c'è più tempo senza ruote con le ruote senza ruote le scarpe con le ruote ce le abbiamo quelle giuste quelle della ilis noi quelle quelle originali anche quelle abbiamo non abbiamo il tempo non abbiamo il prezzo vedere altro arrivederci alla prossima puntata venite al bottegone vi aspettiamo qui fisicamente risparmiare ci aspettiamo